Gianluigi Buffon, il leggendario portiere, è stato una figura iconica per la Juventus. Ha vinto numerosi trofei e stabilito record impressionanti durante la sua carriera. Buffon ha giocato 509 partite con la maglia della Juventus, stabilendo il record di apparizioni nella Serie A con il club bianconero. Nella stagione 2015-2016, ha mantenuto la sua porta inviolata per 974 minuti in Serie A, stabilendo un record di imbattibilità a girone unico. Con la Juventus, Buffon ha vinto 10 scudetti, 5 Coppe Italia, e 4 Supercoppe italiane. Ha rappresentato l'Italia in 176 partite, vincendo la Coppa del Mondo 2006 e raggiungendo la finale dell'Europeo 2012. Nonostante la sua età, attualmente 43 anni, continua a dimostrare la sua classe e dedizione. La sua amicizia solida e antica con il presidente André Agnelli ha contribuito alla sua lunga permanenza. Buffon è un esempio perfetto per la nuova Juve, incarnando l'umiltà e la voglia di vincere. Buffon ha dichiarato che la Juventus è stata la sua vita. Ha vissuto momenti indimenticabili con il club, incluso il raggiungimento della finale di Champions League nel 2015. Il suo modo di fare, la mentalità vincente e la riconoscibilità sono parte integrante della storia della Juve.